salve a tutti sono fabrizio di extra sound e oggi con questo video voglio presentarvi il l'azienda corde è un'azienda che produce cavi come vedete qui vicino a me ci sono tre bobine di cavi di potenza di diversi modelli e siamo felici di potervi comunicare che siamo diventati cordomic terminator in inglese sembra una parolaccia in pratica abbiamo richiesto e corde ci ha dato la possibilità di poter realizzare i loro cavi di potenza abbiamo fatto un piccolo corso e abbiamo anche acquistato la trattatura idonea perché c'è una crempatrice speciale per poter fare i cavi di potenza calibrate in modo che la qualità sia rispettata al massimo oltre ai cavi di potenza in negozio c'è sempre una buona disponibilità di tutti gli altri cavi dopo vi faremo una piccola ripresa quindi cavi di segnale analogico cavi di segnale digitale cavi di rete cavi di alimentazione diciamo che la scelta è veramente ampia ed in occasione del rilascio da parte di corde dell'approvazione per poter fare i cavi di potenza andremo a realizzare un nuovo servizio per voi clienti cioè vi daremo la possibilità di poter noleggiare i cavi di potenza lo vogliamo fare per farvi toccare con mano con orecchio forse meglio dire la qualità del cavo quanto è importante quindi lo farete direttamente a casa vostra e col vostro impianto andremo poi dopo a spiegare bene sul nostro sito tutti i dettagli di come poter fare tutto ciò salve a tutti io sono matteo sempre extra sound lavoro con fabrizio che mio padre e in questa parte del video vi faremo vedere il processo per sguainare e comunque andare ad assemblare confezionare i cavi cord di cui abbiamo fatto vedere le bobine poco fa procediamo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.